Ben ritrovati, ospite di Spazio Città, il presidente della provincia di Barletta, Andrea Trani, Francesco Ventola, bentornato presidente, anche con lei facciamo questo consuntivo di fine stagione televisiva e diciamo in qualche modo anche di fine mandato perché se non fosse intervenuta la nuova legge che non abolisce le province ma abolisce le elezioni si sarebbe votato per le provinciali, avremmo già votato per le provinciali, avremmo un nuovo consiglio provinciale. Invece c'è questa situazione in cui onestamente non si capisce più nulla, lei almeno che è ancora il presidente della provincia, ci ha capito qualcosa, cioè la situazione qual è? Ne abbiamo parlato prima dell'inizio di questa trasmissione. La situazione è veramente qualcosa di kafkiana perché in retta e furia è stata approvata questa legge la 56 nel mese di aprile con un unico obiettivo, quello di non tenere le libere elezioni. Che cosa accadrà è ancora tutto da comprendere perché mancano ancora dei decreti attuativi. Alcuni punti basilari sono che entro alla metà luglio il consiglio provinciale decadrà, quindi a cinque anni esatti dalla sua proclamazione. I poteri del consiglio provinciale è ancora in carica. È ancora in carica per quanto riguarda la provincia abbatta, almeno per un mesetto ancora. Dopodiché i poteri del consiglio passano al presidente che in quel caso diventa anche commissario perché i poteri del consiglio supportato comunque dall'aggiunta, sino al 31-12. Quindi l'aggiunta resta in carica sino al 31-12? Sino al 31-12, gratuitamente, quindi senza nulla, senza avere nessun tipo di indennità di gettione di presenza. Entro il 30 settembre dovrei indire le elezioni perché nel mese di ottobre e novembre si terranno le elezioni a cui partecipano come elettorato attivo e passivo i consiglieri comunali di tutte le città e i consiglieri provinciali uscenti che eleggeranno tra di loro il nuovo consiglio provinciale che sarà costituito da 12 consiglieri e che inizierà le proprie funzioni il 1 gennaio 2015. La stessa elezione, i stessi consiglieri che partecipano all'elezione, voteranno pure per indicare il presidente che deve essere uno dei sindaci delle nostre 10 città con una precondizione e cioè che può essere eletto presidente un sindaco che ha una scadenza di mandato superiore ai 18 mesi e quindi nel caso nostro dovrebbero essere potenzialmente credo 4 o 5 potrebbero assorgere al ruolo di presidente. Detto questo, che comunque è da definire perché mancano ancora dei decreti attuativi e dei regolamenti nel frattempo però ci sono regioni che hanno proposto ricorso alla Corte Costituzionale e una di queste regioni è appunto la regione Puglia. Contestualmente a questo però le funzioni rimangono quelle, anzi sono state date nuove funzioni alle province come per esempio quella di riconoscere la provincia come unica stazione appaltante per tutti i comuni a cominciare, inferiori ai 15 mila abitanti, a cominciare dal 1 luglio. Cioè quindi per assurdo noi dovremmo seguire gli appalti o i concorsi dei comuni nel caso nostro di Spinazzola, Minervino, San Bernardino, Trinitapoli e Margherita. Quindi qualcosa in più, altro che chiudere. Quello che però è grave, quindi questo è veramente un caos e quindi l'amarezza che mi porto dentro è vedere come il nuovo Presidente del Consiglio che è stato un'amministratura locale eletto sindaco di Firenze, Presidente di provincia, abbia potuto dire a tutti i cittadini le province sono state abolite e invece non è così. Abbolire significa che da domani quelle funzioni le fa un altro ente, un altro soggetto. Ha abolito solo le elezioni. Ha abolito solo le elezioni, quindi il perché di una bugia così rossolana, diciamo, ma lascia un po' il tempo che trova. Perché c'è qualcuno, c'è parecchia gente che ci crede, diciamo. Eh, lascia un po' il tempo che trova. Poi una bugia ripetuta migliaia di volte diventa una verità. Questo l'ha insegnato il suo leader. Il problema è il caos che nel frattempo si è creato, perché sono tre anni che chiaramente il personale dove trova ad andare via va via, mobilità in uscita, non si possono fare assunzioni, non si può avere mobilità in entrata, non si possono assumere i disabili seppur previsti dalla legge. Noi dovremmo assumere otto disabili, ma questa cosa ce l'ha privata. Quindi siamo in una fase veramente quasi quasi di sfascio. Questo in tutta Italia. Noi invece siamo riusciti, forse questo solo perché eravamo nati da poco, a tenere da parte queste cose normative e abbiamo sempre detto stiamo al merito. Cioè fin quando stanno le province, le nostre competenze, facciamole. E abbiamo creato un entusiasmo giusto all'interno della stessa struttura amministrativa, che è d'eccellenza quella che noi abbiamo nel territorio. Cioè chi ha a che fare con la nostra provincia, cioè quei cittadini che si rivolgono per quelle che sono le competenze, non c'è ombra di dubbio. È la migliore provincia che oggi abbiamo in Puglia, è una delle migliori d'Italia in termini proprio di efficienza ed efficacia. Il personale che lavora da noi, che parlo della maggior parte, è veramente persone che sembrano quasi dei liberi professionisti. Cioè che ci mettono veramente tanta tanta di quella dedizione. E oggi se noi andassimo in giro a sentire le persone che hanno a che fare con la provincia, dal comparto ambiente, alle scuole, alle strade, alle politiche sociali, al mondo del lavoro, beh noterete che tutti sono ammareggiati perché non sanno che cosa potrebbe accadere. E questo è un valore aggiunto che noi si ha, non per merito i nostri, ma soprattutto per coloro che ci hanno. C'è stata un'iniziativa per la richiesta di mobilità del personale delle province, sono previsti dei prepensionamenti. Assolutamente no, anche questa è stata un'operazione che dalla nuova politica... Credo che i dipendenti delle province siano 85 mila in Italia. Sono diciamo 60 mila, più le collegate arriviamo a quel numero. La cosa assurda è che non può essere, il nuovo della politica è peggio diciamo del vecchio. Cioè non si può dire chiudiamo le province però il personale non viene toccato. Perché in un momento storico importante, marzo di questo anno, il Del Rio, famosa legge che poi, il decreto che poi è diventato legge, oramai stava in fase di abbandono. Perché anche le organizzazioni sindacali hanno cominciato a riscusare, ma il personale che fine fa? E loro hanno messo a tacere questa cosa per andare avanti, cioè il personale non viene toccato. E quindi di che cosa stiamo parlando? Ora però sono tutti preoccupati perché si comincia a capire con i nuovi decreti attuativi che dovranno essere emanati, bisogna capire che cosa fa questo personale. Perché se le devi chiudere le province da qualche parte dovranno andare, altrimenti significa non chiudere. E se dovessero essere trasferite alle regioni aumenterebbe il costo perché il contratto dei dipendenti regionali è superiore rispetto ai contratti degli enti locali. Si deve andare nei comuni e i comuni hanno difficoltà già oggi a reggere con i tagli che ci sono stati e che continuano ad esserci. La questione della pseudo-abolizione delle province è strettamente collegata alla nascita delle città metropolitane. L'esilia si è fatta. Che questo io spero che non nasceranno mai, perché sarà veramente qualcosa di storicamente negativo che noi ci stiamo costituendo e che lasceremo alle generazioni future. Ma ci ha capito qualcosa sulle funzioni? Assolutamente no. Perché intanto è giusto dirlo, in Europa noi abbiamo 22 città metropolitane, in tutta Europa. In Italia con questa legge noi situiamo 18, perché sono 10 nelle regioni a statuto ordinario. Poi ci sono quelle a statuto straordinario. In Sicilia hanno già deliberato il Parlamento siciliano, Palermo, Catania e Messina città metropolitane, Cagliari città metropolitane e poi ci sono le province di Trendo e Bolzano che sono province autonome che rimangono, quindi arriviamo a 17-18. Ora qualcosa di assurdo. Cioè in Italia se dovessero nasceranno le città metropolitane, al massimo potrebbero essere Roma, Napoli e Milano, al massimo potrebbero essere queste tre. Invece stiamo sostituendo le province con le città metropolitane. Noi immaginiamo la città di Bari, città metropolitana, 41 comuni, non comuni da 1.000 abitanti, 2.000 abitanti. 48 comuni erano originari, la provincia oggi sono 41. Noi immaginiamo comuni come Altamura, Monopoli, Alberobello, Noci, cioè sto parlando di quelli che sono un po' più o meno ai confini, che diventano città metropolitana, allora lì bisogna fare un salto di qualità, corato, lì bisogna fare un salto di qualità, perché se uno crede nella città metropolitana deve cedere sovranità. In termini di pianificazione urbanistica, per esempio, in termini di rifiuti, deve cedere sovranità. Dice, io queste deleghe le cedo alla città metropolitana. Altrimenti che cos'è? Un duplicato della provincia. Ma noi possiamo immaginare che il sindaco di Bari, che sarà eletto in questi giorni, può essere, che è stato eletto, può diventare per legge il sindaco della città metropolitana senza che sia stato eletto dal cittadino di Altamura. Qualcosa di allucinante. E su questo, per esempio, la Regione Puglia ha proposto ricorso innanzi alla Corte Costituzionale. Torniamo alla provincia. Quindi lei da Presidente si accinge a trasformarsi in commissario senza stipendio. Se non si è arricchito in questi cinque anni, diciamo, che cosa fa? No, io intanto torno in banca. Questo è chiaro. Se torno in banca continua a fare il Presidente. Torno in banca e se ci sono le condizioni che mi possano permettere di continuare a dare il mio contributo da semplici, tra virgolette, semplici cittadini in questa fase di accompagnamento lo faccio. Ci mancherebbe altro. Perché giustamente verrebbe, a parte che voglio dire, l'impegno in politica non è un lavoro e bisogna metterlo sempre in discussione. Quando si viene eletti, un giorno puoi essere sindaco e il giorno dopo sei cittadino comune. Quindi guai a chi pensa di diventare, come dire, un ipotente o un qualcosa che viene dato per dono di Dio e quindi rimane così. Per cui finisce il mio mandato, io torno in banca, poi ci sono le leggi che oggi consentono di avere dei permessi, degli orari, delle cose. Se questo è compatibile rispetto al lavoro che sta ancora da fare in provincia, è bene. Altrimenti, pazienza, sarà nominato un commissario dalla prefettura. Questa volta però pagato. Quindi se rimane anche un commissario o no, se viene il commissario nominato dal prefetto o il prefetto stesso prende un'indenità aggiuntiva e viene pagato. Questo è il nuovo che avanza. Che esperienza è stata? Molto positiva. Tutti questi 13 anni, 10 anni da sindaco e in contemporanea i tre anni voglio fare un passo indietro perché quando lei è diventato presidente della provincia per molti, in molti, osservatori, politici, cittadini, hanno avuto la sensazione che Canusa fosse diventato un concentrato dei migliori del mondo. No. Le migliori aziende, le migliori professionalità. Nonostante ciò, lei l'anno scorso ha subito una coccente sconfitta nella sua, due anni fa, con una vittoria inattesa in quell'occasione del centro-sinistra. Si è riuscita a spiegare perché è successo? Sì, ci sono stati degli errori... No, perché diciamo, lei è stato eletto sindaco anche credo con il 75%, una cosa del genere. Ci sono stati degli errori miei personali di valutazione pensando che il cittadino in un momento in cui c'è una carenza di leader potesse pensare che ci potesse essere una squadra a supporto. Secondo, sono stato tradito. Io nell'attività politica non è molto diverso dal mio modo di vivere la vita normale. Cioè la mia strategia è sempre di quello che penso. Io sono stato tradito da amici, che reputavo amici, che investiti da me nell'impegnarsi in politica avevano sempre declinato imprenditori locali importanti perché giustamente mi dicevano, Francesco, ma noi siamo impegnati in imprese, non abbiamo proprio tempo, abbiamo anche problemi di salute, alcuni. Io ho creduto alla buona fede. Dopodiché, quando abbiamo ufficializzato il nostro candidato e la nostra coalizione, senza prendere tutto di più, ma solo le persone che volevano stare insieme, me lo sono ritrovato il nostro candidato contro. E questo è stato un candidato che ha preso, nel caso di Canosa, di Papagna, che ha preso un 16-17% circa, per poco non è arrivato al ballottaggio, tutti elettori di centrodestra. Ora noi siamo arrivati al 49% circa al primo turno, se Papagna non si fosse candidato, non dico che tutto quel 16% veniva a noi, ma almeno un 2-3% veniva noi avremmo vinto le elezioni e Canosa oggi avrebbe proseguito un percorso, seppur difficoltoso, ma comunque di opere pubbliche, di interventi e di ampio spazio al mondo dell'impresa. Invece che giudizio dà sull'amministrazione di centro-sinistra? Che sta perdendo tantissime occasioni. Io ho creduto molto comunque quando è stato eletto il sindaco La Salvia, perché ho rivisto in loro, in quella vittoria, un po' più o meno quella che era accaduta nel 2002, con la differenza che noi avremmo, all'epoca prendemmo molti più voti. Ma loro, il centro-sinistra, Canosa, avendo un'elezione che in città rappresentava poco più, come fatto politico, del 15% col sindaco che aveva preso il 17% a primo turno. Quindi, consiglieri comunali di 25 voti, 30 voti. Cioè tu immagina che i miei voti di preferenza come consigliere sono quasi la totalità della sommatoria dei consiglieri attualmente in consiglio comunale che rappresentano la maggioranza. È un po' la distruttura della legge elettorale. Però c'è un vantaggio. Avendo vinto un miracolo, l'entusiasmo avrebbe dovuto superare anche la non esperienza e soprattutto la collaborazione con un'amministrazione uscente che a Canosa non ha mai caratterizzato un dato politico, ha pensato solo a fare. Altrimenti non si raggiungono quei risultati del 75% quando vai a chiedere una riconferma. Io faccio un esempio. Emiliano a Bari la seconda volta ha vinto a ballottaggio. Un sindaco che lavora bene, vince a primo turno. Ed è stato il caso di Spina Bicelli, è stato il caso di Tarantini, il caso mio, il caso di Gino Perrone, il caso di Antonio Azzollini. C'è tutti coloro che amministrano bene a primo turno. Spina, è andato al ballottaggio comunque. No, no, la seconda volta che è stato eletto. L'anno scorso. No, no, ma è della terza volta che fa il sindaco. La seconda volta, perché se tu hai lavorato bene a livello locale anche uno di sinistra ti vota, non è quello il problema. Loro hanno perso una grande occasione, però sono già passati due anni e credo che non la recupereranno più. Oggi se giro in città. Torniamo alla provincia. Invece quali sono state le più grosse difficoltà? Le più grosse difficoltà sono state. Le delusioni più coccenti. Le delusioni più coccenti è stato vedere il potere vero politico che sta a Bari fregarsene del nostro territorio. Considerare che ad oggi non è mai venuto il presidente della regione in provincia, seppur invitato. Ogni volta che la regione ha regiferato le leggi sono uscite con cinque province e noi abbiamo dovuto sgomitare per dire che noi esistiamo. Vogliamo parlare degli interventi sul territorio? Vogliamo parlare degli interventi strategici? Sono passati cinque anni che davamo un intervento, il Ciappetta Camaggio, che davamo un intervento all'ospedale di Andrea. Non sto parlando del contributo, della singola cosa, sono parlando di cose serie. di cose serie. E il vedere completamente bistrattati, e questa è la delusione più coccente che mi porto dentro, perché la regione Puglia avrebbe dovuto considerarci né più né meno di come ha considerato le altre province, invece ne abbiamo dovuto sgomitare. E forse in questo anche i nostri rappresentanti, tutti e cinque i consiglieri e anche l'assessore all'epoca, presentando un po' del territorio, che sono stati sempre interessati, stati interessati dalle attività che svolgeva dalla provincia, delle interlocuzioni che aveva con la regione, probabilmente siamo stati un po' tutti distratti da questo punto di vista. Non è soddisfatto della collaborazione che ha avuto? Assolutamente no. Quindi neanche con quelli dalla sua parte politica? Quello che abbiamo ottenuto è stato merito nostro, merito del Consiglio provinciale, di quanto mi ha messo in condizione, votando in unanimità a determinati provodimenti, di poter sgomitare, di poter alzare la voce, di consiglieri provinciali che hanno avuto anche esperienze in regione, che hanno utilizzato le loro amicizie personali, di consiglieri provinciali che sono sindaci, erano e sono sindaci, che hanno utilizzato anche la loro autorevolezza, però non è normale, un figlio che nasce e tu l'accompagni, non che cerchi di ammazzarlo nella culla, ma non ci sono riusciti, perché con la bellezza di questo territorio e della vera sfida, che indipendentemente dall'ente, quello che sarà la provincia, ma queste 10 comunità da 20 anni ragionano insieme e devono stare insieme, se no sarà la fine, sarà la fine, devono continuare a stare insieme. Che consiglio provinciale è stato? Io sotto molti aspetti glielo dico, ce l'ho già detto, sono già espresso quando ho commentato nel Tg, ho trovato molto consociativo, devo dire. Lei dirà che è collaborativo? No, no, allora un consiglio provinciale che nasce per la prima volta e non ha nemmeno la sede fisica dove iniziare ad operare, cioè i consiglieri provinciali hanno avuto una stanza per potersi riunire dopo due anni e mezzo, quindi è normale che si crea un rapporto molto personale, cioè la sfida, quando si parlava di sarà un'assemblea costituente, una sorta di assemblea costituente, era veramente così, perché passo passo dovevi fare tutti insieme e noi abbiamo dovuto, chi ha vinto all'epoca, quindi io con la mia maggioranza, abbiamo dovuto sia partecipare alla fase costituente, ma anche amministrare, perché comunque le competenze le hai avute da subito, comunque dovevi dare risposte e quindi veramente un lavoro molto molto importante e significativo, che non fai se non hai un minimo di collaborazione con l'opposizione. Poi quando non ci sono interessi così importanti che possono essere di parto, che possono essere di società partecipate, di gruppi, gruppetti, la gente matura di buon senso supera questi ostacoli, cosa che è accaduto e non dimentichiamo che noi abbiamo perso un valore assoluto in consiglio provinciale e dal mio punto di vista ho perso molto, perché è stata quando Francesco Salerno è venuto meno, poco più di un anno dall'istituzione, perché se avesse avuto Francesco Salerno in consiglio provinciale, determinate battaglie sia sull'organizzazione delle province, sia nei confronti della regione sarebbero state, secondo me avrebbero avuto un contributo maggiore e una forza maggiore. parecchie urla di più, diciamo. Parecchie urla di più, poi Francesco è un innamorato del territorio, anzi può dire, faccio l'esempio, abbiamo messo i soldi, facciamo la legge sulla disfida di Barletta su Cannes della Battaglia, beh poi andiamo a Cannes, non credo che la cosa sia cambiata, la disfida di Barletta adesso se ne ricomincia di nuovo a parlare, cioè per dire, se stava a Cicci Salerno in consiglio provinciale, anche lì, anche lì, Cannosa è la localizzazione da tutti di conosciuto, beh in questi due anni l'errore è del comune di Cannosa, perché l'errore diciamo politico, poi la scaltrezza del governo regionale, ci ha messo le condizioni di dire vabbè quando avete le idee chiare venite qui, le idee chiare il comune di Cannosa ce le aveva già, quando un consiglio comunale si esprime per più volte in unanimità e approva dei progetti, sottoscrive delle intese, beh vuol dire che quella è la volontà, è cambiata l'amministrazione, è stato rimesso tutto in discussione, legittimo, ma sono due anni e non si sa che cosa bisogna fare e d'altra parte la scaltrezza di chi deve mettere i soldi, però ti dice, ah volete rimettere in discussione, vabbè allora quando avete le idee chiare venite, intanto la programmazione 2007-2013 è finita e vediamo nella prossima. Sono 30 anni che si parla del museo, 25 sicuri. Diciamo che la missione Museo a Cannosa è nata con la nascita della fondazione archeologica che risale a 20 anni fa, quando questo sussulto civico ha messo in condizione di creare un'associazione poi diventata fondazione che aveva come suo obiettivo la realizzazione del museo, dopodiché ci sono stati anni in cui si è lavorato, per questo si è attinto a una serie di canali di finanziamento, poi rimasti tutti vuoti, ma il fatto di avere un'idea progettuale, un'idea condivisa è la base per poter poi andare a combattere per avere i soldi. Allora ci fermiamo per un minuto di pubblicità e poi torniamo in studio per continuare la nostra intervista al Presidente, vediamo ciò che è stato fatto e ciò che non è stato fatto in questi cinque anni e perché. Lo facciamo tra un minuto di pubblicità. Bene, siamo tornati in studio per continuare la nostra intervista a Francesco Vento, la Presidente della provincia di Barletta, Andrea Trani. Presidente, stavamo facendo un po' un consuntivo di quella che è stata l'attività di questi cinque anni, visto che siamo sostanzialmente a conclusione di mandato, sull'utilità delle province si è sempre discusso molto, si voleva un rafforzamento attraverso le deleghe della regione agli enti provinciali, deleghe che da qualche parte sono state fatte e qui in Puglia non è andata proprio così, nel senso che la regione si è voluta tenere ben stretta tra le mani deleghe che sarebbero state importanti, dice la provincia poi alla fine, si occupa soltanto di strade, scuole e un po' d'ambiente. Allora parliamo di strade. Andrea Trani, Andrea Biceglie, Margherita Zapponeta, Trinità Policerignola, come stavano? Stanno? No, non è così. Non è così. Se noi andiamo sul posto, vediamo, diciamo, sono così, al di là della manutenzione ordinaria e qualcosa di straordinario che è stato fatto. No, qui si parla, diciamo, dell'allargamento messo in sicurezza, diciamo, il taglio delle erba. Diciamo, io mi consentirei proprio un secondo una premessa. Prego. Il ruolo del politico, che poi diventa amministratore se prende i voti, è quello di programmare, progettare e trovare i soldi. Dopodiché passa tutta la burocrazia, cioè dopo di che noi non possiamo fare più niente, anzi, giustamente non possiamo mettere bocca. Allora noi, in tre anni e mezzo, perché voglio dire, per un anno e mezzo noi abbiamo mantenuto ancora Foggia e Bari che gestivano per noi. In tre anni, tre anni e mezzo, noi abbiamo avviato i lavori sull'Andrea Trani. Quindi recuperati i finanziamenti, fatta la gara d'appalto che l'ha fatta Bari per noi, superato i due anni di contenziosi, pagati quasi dieci milioni di espropri e sono cominciati i lavori sull'Andrea Trani. Dopodiché non posso andare né io materialmente a lavorare, né posso prevedere che magari chi ha vinto la gara adesso ha presentato un concordato preventivo due o tre mesi fa ed è tutto fermo per il Tribunale. Ma nel frattempo l'attività sta andando avanti, perché sull'Andrea Trani in questi giorni si sta completando la verifica, dopo che sono stati spiantati gli alberi e ripiandati da un'altra parte, quindi inizia la consegna dei lavori formali, si sta facendo la verifica bellica che terminerà nel giro di 10-15 giorni, nel frattempo cominceranno l'arretramento tutti i proprietari che hanno già avuto i soldi e devono arretrarsi e iniziano i lavori dei sottoservizi. Italgas ha già appaltato quasi 900 mila euro di lavori perché va cambiata la condotta, la LAMET di Trani per quanto riguarda i tralicci, quindi i lavori sono in corso. Io non ci posso fare più niente, né io né nessun altro politico. Noi pretendiamo tra virgolette il grazie per aver fatto il nostro lavoro, che però per 30 anni non è stato mai fatto. Cioè in tre anni trovati i soldi, iniziati i lavori. Margherita Zapponeta lo stesso, siamo arrivati che non c'era nulla, abbiamo programmato, progettato, ottenuto il finanziamento, cofinanziato dalla provincia, abbiamo appaltato, siamo arrivati all'aggiudicazione provvisoria, tecnicamente. Quindi si sa chi ha vinto la gara. Adesso decorrono i tempi necessari per arrivare a avere i documenti e fare l'aggiudicazione definitiva. Dopodiché se nessuno farà il ricorso, fra 6-7 mesi inizieranno i lavori. Ma io non posso farci più niente. Trinitapoli, Cerignola. Quella no. Quella abbiamo solamente fatto uno studio di fattibilità, candidato come seconda priorità, perché le priorità erano l'Andrea Trani, la Canosa, la ex della Stata 98 e la Margherita Zapponeta. Ma è la prossima priorità appena la Regione Puglia comincerà a ripartire i fondi che sono delle strade provinciali, ma che gestisce la Regione, ex legge 112, la prima sarà Trinitapoli, Cerignola. Quindi chi verrà dopo di noi, se non faremo in tempo, si troverà un piatto più o meno pronto, deve solamente portarlo a termine. La Andrea Canosa, ex della Stata 98, anche lì. Noi abbiamo, grazie all'epoca ministro... Siamo là, non è stato manco cambiato il cartello di divisione delle province, proprio sul ponte dell'Opa. Poi ci arrivo su questa cosa, che è qualcosa che fa male, però è vero. Noi ci siamo insediati e la strada era quella che era, finanziata da Cerignola verso Foggio, perché dimenticata da Dio. Quando il ministro Fitto ebbe la delega anche al DPS, quindi la possibilità di intervenire con la delibera Cipe, ci chiese, non mi presentate 10.000 progetti. Che cosa vi serve per sistemare? E noi indicammo l'Andrea Canosa. Con la delibera Cipe numero 62 del 2011 sono stati finanziati 54 milioni di euro, i due lotti, Andrea Canosa e poi la tangenziale di Andrea. Abbiamo fatto le gare d'appalto, sono state anche aggiudicate definitivamente le gare d'appalto, adesso stiamo acquisendo tutti i pareri delle organi preposti. Cosa può fare di più un politico? Qual è la mia amarezza? E posso dirlo? L'incazzatura è tutta questa montagna di burocrazia. C'è un centro di costo, dico io, che in questo caso può essere la provincia, il comune, la regione, c'è chi è responsabile dell'appalto? Se mette in gara, vuol dire che la cosa si può fare. Dopodiché, chi ha vinto la gara, fatti i dovuti accertamenti su antimafico, deve poter iniziare i lavori. Non è possibile che abbiamo bisogno di 18 pareri. Autorità di bacino, sovraintendenza 1, sovraintendenza 2, foreste, ombre, paesaggio, non si capisce. Delibri di Consiglio Comunale su preliminare, poi la variante, poi il PTT, poi il PTR, c'è qualcosa di incredibile. Allora è chiaro che però la gente non vede e dice che cosa stanno facendo, lo fanno. Io però appartengo ad una classe di amministratori che credo di fare le cose serie e le cose fatte bene. L'abbiamo fatto, sono lì in appalto, possiamo dire anche il nome delle ditte che le hanno vinte perché sono atti ufficiali. Andrea Biceglie? L'altra Biceglie è stata pure aggiudicata, stiamo definendo gli espropri. Cioè lì addirittura sono pronti anche per firmare il contratto. Dopodiché, però, prima di firmare il contratto, proprio per evitare condensiosi, stiamo rifacendo sul progetto. Ma c'è una parte a carico di Comunale? Perché c'è la zona, diciamo, quando si arriva a Biceglie, che è già stata allargata da anni. Ma quella è sempre allargata dalla provincia. No, 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 questo è un altro lotto che parte da Andrea e va verso Biceglie, per circa 3-4 chilometri, non è completamente. Non è completamente. È un lotto, è stato già giudicato, ha vinto una ditta di Trigiano, erano pronti per firmare il contratto, noi ci siamo fermati un attimo perché all'epoca la provincia di Bari non fece per bene il particellare d'esproprio. E quindi, siccome noi abbiamo un eccellente collaboratore in provincia, che sulle esproprio è il numero uno, secondo me è il numero uno in Italia, perfetto, abbiamo preferito aspettare un mese, due mesi, ma fare il particellare d'esproprio perfettamente, in maniera tale che chi verrà dopo di lui non avrà condensiosi. Però io, voglio dire, come amministratore, non è che possa andare nella casa di quasi 400 mila abitanti a dire guarda che ho fatto queste, ho fatto, c'è la politica, tutta l'amministrazione provinciale, questi sono atti approvati in Consiglio Provinciale all'unanimità, quindi voglio dire, dobbiamo essere più che soddisfatti. Incazzati perché è purtroppo in Italia per fare un'opera, ci vuole tanto tempo. Senta, sulle scuole è andata un po' meglio? Sulle scuole è andata un po' meglio perché non c'è tutta questa burocrazia, dove abbiamo qualche difficoltà e dove dobbiamo realizzare qualcosa di nuovo. E quindi tutti i pareri e altro. L'altro giorno, dopo otto mesi, abbiamo firmato il contratto per Trinitapoli e quindi risolviamo un'altra questione annusa. Il video classico di Trinitapoli. A Barletta, dove stanno negli scantinati i ragazzi a studiare lì. A Barletta la nuova scuola è pronta. L'ha fatta Matarrese che ha bloccato i lavori perché è in concordato preventivo, aspetta l'autorizzazione del Tribunale, ma due o tre mesi di lavoro è completata la scuola. Un nuovo edificio che va a soddisfare tutte le esigenze che attualmente sono diverse che stanno su Barletta. Ad Andrea, con l'inizio del lavoro del Nuzzi, abbiamo risolto un altro annoso problema. A Canosa dovrà partire la scuola nuova dell'impresa che ha finito la campagna di scavi e comincerà i lavori, mi auguro, subito dopo l'estate. Perché io, veramente, avendo fatto il sindaco, guarda il territorio mio e i rapporti con la provincia di Bari, ma voglio dire il rapporto è uno a cento. Gli interventi fatti da noi ci volevano cento anni. Più difficile fare il sindaco o il presidente della provincia? Più difficile fare il sindaco. Perché il presidente della provincia è un qualcosa che io mi sono... E meno a contatto con il cittadino? E meno a contatto con il cittadino, sì. Seppur la nostra ha diversi contatti. Però, diciamo, oggi è più difficile fare il sindaco. Presente di provincia perché io mi sono sempre sentito un consigliere provinciale e avendo avuto l'esperienza in passato di costruire quest'idea identità provinciale con sindaci autorevoli, importanti, di grosse città. Io ero un pischello che arrivava lì. Sono cresciuto con questa visione di questo territorio come unico territorio. Per cui mi sono sentito in questi anni stradino, tecnico, esperto in politiche sociali. Mi sono sentito un operatore, un operaio di questa provincia. Non ho mai assunto al ruolo il presidente della provincia, ma Francesco Ero, Francesco Rimango, perché c'era necessità di, come dire, far trasparire che la provincia non era un qualcosa che andava a sovrapporse ai comuni, ma un qualcosa che teneva insieme ai comuni. Che fine fa questo territorio? Questo territorio, almeno il mio impegno, continuerà ad essere quello di tenerlo unito. Per forza, se no sarà una sconfitta per tutti. Sul patto territoriale che cosa pensa? Al patto territoriale adesso c'è una fase di riflessione che credo un mese, due mesi, chiarirà una volta per tutte. Secondo me può diventare, quello che ho sempre pensato, un braccio operativo di comune e della provincia. che di fatto lo è già stato. Lo è già stato in passato, diciamo, adesso si cerca una nuova funzione. No, no, non è che lo è già stato in passato. Ma certo, se uno ha dei soldi da gestire, è una funzione. Se uno deve andare a reperire soldi, è un'altra funzione. Se uno offre servizi ai comuni, pagandoli meno di quando pagheremo dei consulenti, è un altro servizio. Il problema è la volontà dei comuni. Io sono rimasto molto rammaricato nel vedere chi è uscito senza nemmeno leggersi le carte, a parlare di carrozzoni, di cose. Il patto territoriale in 10 anni ha portato sul territorio 250 miliardi. Che sul territorio sono rimasti? Ad imprese, ad opere pubbliche, ai comuni. Non sono andati nelle tasche di nessuno. Sono rimasti lì. E dopodiché, se ci sono comuni che utilizzano il patto, l'Agenzia per l'Ambiente per fare le valutazioni ambientali strategiche, le vie e cosa, e paga pochi euro. Ci sono comuni che chiamano società esterne pagando migliaia e migliaia di euro. È una scelta che fai sul territorio, sbagliata. Se tu hai inclusione sociale, perché devi andare a chiamare le altre società o le altre cooperative per far fare lavori di assistenza agli uffici dei piani sociali di zona? C'è l'inclusione sociale. Già la paghi, perché devi spendere altro? Vuol dire che non ci credi? O vuol dire che vuoi utilizzare altre società per altri scopi? E allora? Ce ne sono già troppi di grillini in giro. Il grillino lo può fare chi non amministra. Facesse chi non amministra. Ma chi amministra non può fare il grillino. Questa cosa di lotta e opposizione, governo e opposizione non esiste più. Chi amministra, tanto ha l'autorevolezza, avendo i voti in Consiglio Comunale, di decidere se stare in un organismo o di non stare. Siete riusciti, diciamo, in cinque anni comunque a chiarire tutti i rapporti con quelle che erano le province madri? Sì, con la provincia di Foggia, in maniera eccezionale, sin da subito, ma anche perché... Eh no, ma so che con Bari ci sono stati lungamente dei problemi. No, ma il provincio di Bari è superato quasi tutto. Ad esempio l'istituto psicopedagogico di Trani è nostro, ma sta sempre così? Eh no, che possiamo fare? Lo dobbiamo vendere. Dobbiamo vendere. Per tre volte è andata deserta la gara, adesso lo ripubblicheremo, dopodiché lo regaleremo. Cioè non è possibile, non è che la provincia può mettersi a gestire una struttura sociosanitaria o fare investimenti. Ma sulla gestione dei beni immobili? Noi non abbiamo preso nulla da Bari. Noi da Bari quello che ci è stato trasferito per inerenza territoriale... E la sede? E la sede dell'ITA, l'istituto psicopedagogico e alcuni terreni. Basta. non abbiamo altri immobili. La sede l'abbiamo ottimizzata perché ci sta la scuola e ci stiamo noi. L'istituto psicopedagogico l'abbiamo messo in vendita e dobbiamo venderlo perché sennò non si può fare nulla. Lo regaleremo al comune di Trani perché si trova su Trani. Cioè qualcosa dobbiamo fare, ma non è possibile. Tra l'altro poi i vincoli urbanistici che sono stati messi sopra lo rendono anche poco appetibile. E i terreni li abbiamo venduti, li abbiamo messi in vendita, alcuni sono stati venduti, altri sono in sede di Condenziosi. Quelli invece di importanza anche ambientale, che stanno nella zona a nord e quindi Spinazzola e Minervino, quelli sono di proprietà della provincia. Che rapporti ha avuto la provincia con il parco dell'Alta Morgia? Ma diciamo qui... Perché so che, diciamo, non sono tutte rose e fiori. Non sono tutte rose e fiori perché noi siamo sempre rispettosi, almeno io ho voluto improntare in questa maniera due. Facciamo bene quelle che sono le nostre competenze, poi vediamo le altre. Se non si è invitati a partecipare, io non mi presento. Allora, vedere in alcuni momenti elettorali il presidente del parco che invita a tenere relazioni il suo sindaco, perché lui è stato sindaco, Michele Emiliano, che col parco dell'Alta Morgia non c'entra nulla, è quel modo fazioso di gestire le cose. E non va bene. Aprire questa affronta tutta ideologica contro il Ministero della Difesa, quando poi, se andiamo sul parco, ci sono zone dove ancora oggi avvengono degli sversamenti abusivi, o sia in procinto di fare discariche nelle immediate vicinanze del parco, mi sembra prendere in giro i cittadini. Quindi, aprire un confronto serio su come devono avvenire o meno, per esempio, le missioni militari, le esercitazioni militari, allora vuol dire affrontarle seriamente. Questa cosa è di utilizzare determinati strumenti, sono in momenti elettorali o qualcosa che... e allora facessero bene il lavoro se sono in condizione di farlo. Siamo in conclusione. Faccio aprire un'ultima parentesi, visto che c'entra Canusa, lei ha fatto e ma se tu mi devi invietare di nuovo, che ci sono tante cose che potremmo dire, che è giusto che i cittadini sappiano. Siccome l'agro di Canusa, non voglio dire da sempre, ma da molti lustri, è considerato sempre molto appetibile per discariche, ogni tanto... Lo era. Cioè, adesso la situazione... Lo era negli anni 90. Poi c'è stata un'amministrazione, che è la mia, che ha preteso tra virgolette il lenzolo bianco. Cioè, intanto capiamo cosa è accaduto, cosa sta e mettiamoci in condizioni che determinati tipi di impianti non si possono più realizzare. Ed è quello che abbiamo fatto con prima l'approvazione di varianti urbanistiche e poi con l'approvazione definitiva del piano urbanistico generale. Quindi oggi, legittivamente, un imprenditore che vuole fare determinati tipi di impianti sa che a Canusa non può farli perché c'è stata una scelta politica, non delle ordini del giorno così. Beh, noi qualche querida ce la siamo beccata in difesa del territorio. Quelle fanno sempre bene. Eh sì, sono sempre medaglie, anche perché poi veniamo assolti qui. Sindaco, Sindaco, Presidente, proprio le ultime battute. La cosa che le ha dato più soddisfazione di questi cinque anni è l'amarezza più grande. Quali sono state? Ma non, l'amarezza più grande è stata quella di vedere la divisione quando abbiamo appoggiato un articolo dello Statuto che era quella della sede legale. Che è ancora provvisoria, diciamo. Quella è stata un'amarezza perché quando si ha una visione, uno si canta a fare il consigliere provinciale, ossia i responsabili di partito a livello provinciale, non può venire ad Andria e dire all'Andria se avete ragione. Andare a Barletta e dire avete ragione a Barletta. Poi c'è un momento in cui devi decidere. E quindi quella è stata una piccola amarezza perché poi alla fine infierono tutte le condizioni per fare le cose per bene. Cioè è una provincia che è nata con quella legge. E noi non possiamo dire in giro cose a persone che, diciamo, non rispondono alla legge. Perché poi alla fine c'è un momento in cui devi decidere. E per cui se la provincia è policentrica è policentrica. Se la provincia, se il comune di Barletta non ha mai messo in condizioni il consiglio provinciale di poter decidere sulla sede legale a Barletta non mettendo a disposizione nemmeno una mezza stanza è un fatto reale. E se la provincia ha deciso di non andare a affittare immobili per fare la sede alla provincia ma di valorizzare l'unico immobile che le è stato trasferito ed è nella città di Andria che è una delle città capoluogo, credo che sia una scelta di buon senso pure. Dopodiché, voglio dire, quella è stata una piccola amarezza perché approvare il 99 per i giorni degli artisti. Quando ci fu, io feci un pezzo nel telegiornale dove dicevo che Zaccaro, allora sindaco di, con la decisione di utilizzare come sede provvisoria l'istituto agrario aveva messo sulla sede legale della provincia non un cappello ma un sombrero. l'accusano di traverso al sindaco di Barletta Maffei che in consiglio comunale mi accusò, anche sia pur non facendo il mio nome, di essere un barlettano traditore al servizio degli andriesi che siccome lavorava in una televisione che trasmette da Andria quindi è la soggettà, cioè queste cose. Poi è andata a finire così. Sì, quindi diciamo con buona pace di Maffei quello che il sombrero c'era ed è stato determinante per una scelta. Vabbè, ma questo è giusto per ogni tanto, diciamo, rinfrescare la memoria. Il 99% dei cittadini, questa cosa non è fregata proprio niente, perché al cittadino vuole i servizi. Io non mi sono andato ad aprire la sede della provincia in pieno centro cittadino a Trani piuttosto che ad Andria a Barletta, così la gente vede la sede. Noi stiamo in campagna, ma non abbiamo speso un euro. Abbiamo utilizzato quello, abbiamo valorizzato quello che è pubblico. Poi che sia anche bella la struttura vicino a questa bellissima chiesa di Madonna dei Miracoli, ma stiamo in campagna. Sarà che io ogni volta che venga alla provincia mi perdo, ma quello diciamo è un limite mio. Per dire, cioè voglio dire qualcosa di assurdo. La cosa più importante, questa è l'amarezza, la gioia più importante è che secondo me, sarò forse ancora troppo, ma esiste un'identità provinciale. E' il fatto che io e la mia provincia, il mio consiglio provinciale, abbiamo contribuito in maniera, secondo me, determinante, a far nascere questa identità territoriale è la gioia più forte che mi porta dietro. E sarà l'impegno che io continuerò a approfondire. Bene, credo che possiamo proprio fermarci qui. Grazie Presidente per la sua partecipazione. Grazie a te, Roberto. Alla nostra trasmissione, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito con la consuita cortisatenzione a risentirci.